Anche l'anno scorso vinci 3 a 0 credo la prima partita col Sassuolo Ma non avevi queste sensazioni dal campo e anche dall'ambiente Perché era uscito un bel gol di Di Maria, erano tante cose episodiche Ieri secondo me c'era poco di calcio episodico Era la prima volta negli ultimi due anni che vedi una Juve Che anche se tu provi in settimana 5 cose e te ne riesce una sola in campo Hai vinto nella preparazione della partita Quindi è stata tanto marcata la presenza di Magnanelli Che io sono contento in questo caso Se dovesse riuscire a cambiare anche un'idea O anche lo stesso Max che dice ti delego questa fase Perché io ti riconosco che sei bravo in questo È un congesto di intelligenza Esatto